Buongiorno amore mio! Ciao! Ciao! Stai giocando con le barbi? Sì! Oggi non andiamo al mare, vero? Stasera forse andiamo a saltare. Forse stasera sì, usciamo, andiamo a fare un giro in centro a San Teodoro e andiamo sui saltarelli. Guarda mamma, qui sotto ci sono i letti e qui c'è lei e il piccolino in pancia. Ah, i pupitti fanno da letto le barbi? Sì, è anche piccolino, magari non è in pancia. Che bella idea che hai avuto. Eccolo, piccola vena. Ehi, piccolino lui, sì è un neonato. Ma è in pancia se non lo penso sempre. Eh sì, stai attenta. Allora, oggi siamo a casa, non andiamo al mare perché papà sta facendo un lavoro a casa e Vanessa purtroppo non sta ancora bene. E ho tolto ai ragazzi che dovevo fare la sosta da fare. Ah, gli hai tolto una gamba. Ma poverina. E dicevo che Vanessa purtroppo non sta ancora bene, vero Ani? Sì. Ha ancora queste fitte alla pancia, questo mal di pancia potente e quindi abbiamo deciso per oggi di stare a casa e domani si vedrà. Adesso tu finisci di giocare con le tue barbi e poi vediamo di fare qualcosa insieme, ok amore? Sì. Andiamo a vedere come... Vuoi giocare a bocce dopo? Sì, andiamo. Io devo ancora pranzare, dopo giochiamo, va bene? Intanto di sottofondo c'è il papi che fa i lavori e poi faremo vedere che cosa sta facendo il papà. Sì. Va bene, è una sorpresa. Guardate già. No, 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 no. È una bellissima sorpresa. Quando sarà finito lo faremo vedere. Può dire? No, è una sorpresa. Ciao amore, ma che cos'hai ancora? Eh? Mal di pancia. Hai ancora mal di pancia? Hai queste fitte fortissime che non passano, non vogliono passare. Eh, vabbè, pazienza. Passeranno, speriamo, prima o poi. E quindi oggi siamo rimasti a casa, vero? Non siamo andati al mare perché non voglio che la tua situazione sia gravi. Cosa stai bevendo? Un tè? Poi magari più tardi, se ti va, quando gira il sole, andiamo a giocare a bocce insieme come un'anastasia, va bene? A bocce. Eh? Se ti va amore, ok? Ok amore, io ho pranzato. Adesso tu stai facendo merenda e poi andiamo a giocare a bocce, ok? Il sole sembra che stia andando via da quel pezzo di giardino, va bene? Eh? Quando hai finito me lo dici? Così andiamo a giocare? Amo? Ascoltami, Vanessa sta facendo merenda e poi andiamo a giocare a bocce, va bene? Va bene. Aspettiamo cinque minuti la vane? Sì. Cosa cerchi? No. Aspetta. Aspetta. Hai trovata? Vado a prendere le bocce? Sì, stanno lì. Ok. Voglio prendere lì, voglio vedere se ce la faccio. Vai amore, vai tu. Una volta le stiamo prendendo e erano pesanti. Prendiamo. Vai, con due manine che sei forte. Brava, hai visto? Eh, appoggiali qua, dai, o sulla sdraio. Qui. Dai. Bravissima amore. Brava, dai. Due minuti e andiamo, riposati eh, che hai fatto uno sforzo in male. Vai. Ah, che meraviglia. Mi sa che non andiamo a giocare a bocce? No. Sto qua tutto il giorno. No, no, no. Sì, sì. È bellissimo. Ti faccio dondolare. Tu mi fai cadere. Ole. Ole, guarda, mi riesco a dondolare da sola, guarda. Ole. Ole. Chi siamo? Le penne. Finito, merenda? Dai, prendi le bocce, Vane, andiamo. Allora, scegliamo i colori. Vabbè, non la mette, non la prendi. Prendiamo la pallina. Alla prendi. La pallina prendi. Tu che colore scegli, Vane? E tu no? E lo stesso, indifferente. Lo stesso. Sentite, ragazzi. Ok. Io blu. Sentite, ragazzi, c'è acqua. C'è acqua dentro. Sentite. Hai ragione. C'è un liquido. Vanessa, sei deboluccio ancora, eh. Pochino. Ecco, fatti male, mi raccomando, eh. Tanto è la tua vacanza fortunata, questa. Prendo io? Sì. Fatto? Ok. Grazie. Sei pronta a perdere? No. Sicura? Vincere. Sei pronta a vincere, eh. Ok, chi inizia? Allora, bisogna lanciare il pallino rosso in mezzo. Non dobbiamo superare questa riga. Lancia il pallino. Ok. Ma dai, ma è vicinissimo. Rifacciamo. Ma c'è il sole, ragazzi, io non ce la posso fare. Ok, vai. Ok, vai. Ma, eh, ce l'ha? Non hai forze? Anche, non è vicino. Ma è vicino. Vai, Ani. Tocca a te. Un cane? C'è un cane? C'è un cane. È un cane. È un cagnolone. Dai, su, Vane. È un cane. È un cane che appartiene a qualcuno che è in villeggiatura. Vediamo, mamma. Sei toccata. Hai un punto. Non ho il punto perché l'ho toccata. Oh, Ani, dove l'hai lanciata? A parte che toccava Vanessa, forse. No. Ad Ani. Tocca a me. Olè. Ancora? Me la sono avvicinata. Aiuto. Direi che ho vinto, sì. Allora, abbiamo smesso con le bocce perché il campo era in discesa. Le palle finivano a canicattì. E abbiamo iniziato a giocare a carte. Bene. Che ordine. Chi è che ha messo le carte così ordinate? Io, Vanessa. Vanessa. Tu dici? Anastasia. Tu dici? Anastasia. Anastasia. Va bene, adesso vi do una mano io. Mi raccomando che nessuno bari e nessuno guardi le carte altrui. Anastasia. Non va bene. Capito? Anastasia. No, ma! Oh! Anastasia. Era solo un appunto, eh? Una precisazione. Brave, brave. La quiete dopo la tempesta. Bravissime. Oh, Morine. Che schifo, bravo. Dai, 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 dai. Vai, va bene. Tre carte a testa e quattro in mezzo. Allora, inizia prima la mano. Quindi giochiamo ruba mazzetto. In effetti no, devi iniziare prima tu. Allora, tocca a te. E io ho il... Attivo idea. Cos'è? Eh, ma allora, ma mi rubi sempre il mazzetto. Tu cos'hai lì? Eh, adesso hai il dieci. Io cos'ho invece qui? Vediamo un po'. Ok, cinque. Adesso te lo rubo. Ma basta. Ma dai, ho due carte, ho. Due cinque. Ma allora. E tre cinque. Guarda, sei sempre la solita fortunella, ruba mazzetto. Quindi hai un cinque, vediamo io. E ora posso andare per un sacco di soldi. Figurati. Sì, sì, dovresti giocare al casino. Al casino. Quando sarai grande e maggiorenne ti porto al casino, va bene? Sì. Sette più tre fa dieci. Tocca a te. Allora, sette più tre fa dieci. Guarda, non gioco più Anastasia. Guarda, non tutte lei le ha. Sette più tre fa dieci. Tutte tu le hai le carte. Io non riesco a prendere una carta che tu me la rubi. Vediamo se sei capace a rubarmi anche questa, eh. Quattro. Atto. Eh, meno male. Se farsi. Tre. Riprendimi. Perché ti devo riprendere, perché mi rubi ancora il mazzetto. Finalmente. Mi sembrava strano, eh, che l'ho riuscita a raggruppare un po' di carte. Dove stai andando? Ci sono cadute tutte per terra. Sì, ma guarda che la partita di prima l'ho vinta io, eh. E non ho voluto farlo vedere. Ma alla fine ho vinto io. Tocca a me. Cinque. Sei. E tre. E quattro. Basta? Abbiamo finito? Ti sei stufata? Senti, ma Vanessa è sparita da un'ora e non sappiamo dov'è. Andiamo a vedere che fine ha fatto? Sì. Eh? E poi ci facciamo un aperitivo. Sì. Ti va? La sera andiamo da Elena. Sì, andiamo a mangiare da Elena. Va bene. No, me l'abbiamo detta. Abbiamo solo detto che andiamo a giocare. Ma prima andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare da Elena. Poi io mangio anche tirami su. Cos'è che mangi da Elena? Tirami su. Tirami su? Sì. E' da mangiare? E' tipo cena? La pizza? La pizza con la margherita. Con la margherita. La pizza margherita. Senti, sei sporca di cioccolato qua e sembra che ti siano cresciuti i baffetti. Ma non importa, ormai ti conoscono bene. Sanno che sei sempre sporca di cioccolata, vero amore? Perché tu ti nutri di sola cioccolata. Andiamo a vedere dove è finita tua sorella. Tua sorella. No, tua sorella. Tua. Marina? Ah, bella vita. Noi giocare a carta e lei dice che va in bagno un attimo e poi sparisce. Che è successo? Non ti sentivi tanto bene? Sì. Eh? Ti sentivi un po' debole? Sì, ma adesso non più. Non più? Ah, meno male. Non fame. Hai fame. Senti, volevamo fare un aperitivo, poi andiamo fuori a cena. Ti va? Di fare un aperitivo? Dai Elena. Ok. Mangiamo una bella pizza stasera? No, io risalto mia. Non so se te lo fa però, eh. Guarda. Io lo devo chiedere. Vuoi che glielo chiedo? Ragazzi, faccio vedere il mio caricatore com'è. Il tuo caricatore? Sì, ma non è solo un caricatore. No, e cosa fa? Anche il caffè alla babba la mattina? No, è anche un amicino. E anche un amicino. Ah, è vero. Sì, è vero. È un caricatore che fa anche l'allumino per la sera. Lo devo già mettere. Infatti, guardate qui in alto. Vedete? Che cosa? Vedete che scarico. Eh? Ah, allora mettilo così stasera quando torni ce l'hai carico, magari prima di uscire. Tutto bene? Sì. Sì? Prepara un aperitivo. Tu cosa vuoi bere? Un estate? Ma benedì. Mi piace questa cover. È stupenda. Ma penso che l'abbiamo già vista, sai. Sì, poi è molto giusta. È molto giusta, eh. Perché ha la riga qui, come qui. Direi che è proprio quella adatta al tuo modello di telefono. È un porucco perché è caduto. È un porucco perché è caduto. Però si nasconde bene con la cover, vero? Vabbè, è solo la riga. Capita, ne? Tipo così e qui c'è così la mia lettera. Ah, ok. Ah sì, ce l'ha di Anastasia. No, vedi così. Ah, la S, è vero. E poi così. È vero, la S. Va bene, amore, sì, abbiamo capito, sì. Ci vediamo dopo con un aperitivo. Vediamo, vediamo. Vediamo. Vediamo perché penso che nessuno conosca. Lo metto qui. E? E stasera sarà caricissimo. Si sta caricando. Sì, già stasera sarà carico così lo posso usare, se no mi stanco. Ah, ti stanchi se non lo usi? O ti stanchi se lo usi? Mi stancho se lo uso. Eh, allora lasciamolo lì. No, non lo gioco un po'. Oh, perché non hai giocato fino adesso, vero? No, gioca un po'. Poco. Va bene, Tata. Io vado. Sì. Vieni con me? Si, volevo dire una cosa. Madilla, madilla. Così. Ragazzi, sapete che se voi ce l'avete, ditelo. Eh, scrivetelo nei commenti. Mamma, dilli dove l'abbiamo comprata. Questa cover? Dove l'abbiamo comprata? Qui. Non l'abbiamo presa l'anno scorso a Sant'Odoro? Il tuo paroligere. Allora, o l'abbiamo presa l'anno scorso a Sant'Odoro, le bancarelle in centro, o in Città, Novara. No, ma io dico caricatore. Ah, non lo so, l'ha comprato papà e quando è venuto qui per la prima volta in questa casa, noi non c'eravamo ancora. Sì. E aveva acquistato questi caricatori. Sì, cosa vi piace di più, così sì. Scriveteci cosa vi piace di più. Sì, tipo questo cecchetto, così vi diciamo dove l'abbiamo comprato. Eh, sì, perché me lo ricordo, sicuro. E anche questo costume. Questo costume. Se avete una bimba piccola. Certo, beh, se sono piccolini loro anche. Io non lo so più, io... Magari hanno la tua età, quelli che ti seguono, hai capito? Quindi... Mi piace quello lì con l'uccellino. Tipo Giulia e Amelia che gli piacevano i costume e hanno cinque anni come me con l'uccellino. Ma perché a te non piacerebbe un costume con l'uccellino? Sì. Tu ce l'hai, col cigno. Eh. È bellissimo quel costume. Sai, dove l'abbiamo comprato? Qui a Sant'Iodoro, l'anno scorso. Ok, e dove? Mi sembra in una bancarella. Non mi ricordo. Vabbè, comunque l'abbiamo comprato. Mi ricordo che l'avamo preso sia te che a Vani. Ma forse non eravamo manco qui, sai. Forse due anni fa, però, non l'anno scorso. Non me lo ricordo, Ani. La mia memoria è corta. È corta. Più l'età avanza, più la memoria diminuisce. Gli orecchini. Gli orecchini? Cosa? Quanti qui gli orecchini. Questi qui non te li ha... Questi qui? Eh, forse al Toys. Mi li ha dati... Te li ha regalati qualcuno? Eh, ma se fagna quando siamo andati dalla parrocchia. Ah no. Ma va. Ma li abbiamo comprati noi. Li abbiamo comprati noi. Sì, al Novara. Al Toys, forse. Sì, comunque voi andate a vedere qualche parte. Se li trovate, vabbè, trovate tutto. Va bene. Dai, adesso però... Anche il Minions, ma certo. Adesso è carinissimo. Come te, brava? Perché lui è da anni a casa. Da solo. Sì, non lo scorriamo mai. Ma se l'hai portato da Novara in Sardegna. Un Minions fortunatissimo che è riuscito anche ad andare in vacanza. Dai. Ma se non si fa un bagnetto? Lo portiamo al mare, il Minions? Gli facciamo il bagnetto domani? Alla babbola però sì. Vabbè, dai, la portiamo al mare allora domani la bambolina, ok? Ragazzi, che volte queste non ce le faccio, ho messo al contrario. Cosa hai fatto? Hai messo la fascia come porta cellulare? Così, a me non cade. Cioè, diciamo che questa fascia che io ti ho acquistato la stai usando per tutto, tranne che per i tuoi capelli, vero? Comunque mi pare un'ottima idea. L'ho messo così, però... Allora, ingegnati un attimino di più e poi vieni fuori e mi fai vedere come funziona questa fascia, va bene? Sì. Ti aspetto? C'è la? Mi ho trovato quei cucchiali, papà. Cos'hai trovato? Degli cucchiali, guardate gli occhiali. Vediamo? Belli! Andiamo a mangiare? Già sono le tre. Andiamo a mangiare e poi andiamo a fare un bel giro in centro, eh? Che dobbiamo comprare tante cosine belle. È un gelato. È un gelato. Tu sarebbe meglio che il gelato non lo mangiassi, eh? Poi vediamo, dai. Tu vuoi tiramisù a Elena? Va bene. C'era l'altra volta, quella gelateria era buona. Eh vabbè, dai, magari stasera te lo prendo in gelatina. Ok, indo. Chi è? Cosa vuoi mangiare, amore? Una margherita? Eh? Fa caldo stasera, vero? Si suda. Guardate la cazzo, si suda. È un alieno. È tutto blu, papà. Ma com'è possibile? Per te va ne un riso se ce lo fanno? Amore, che fortuna ci fanno il risottino in giallo. Eh? Sei contenta? Poi andiamo a farci una bellissima passeggiata. Però mi sa che stasera mangeremo molto tardi perché c'è tantissima gente in questo locale. Va bene? Brava, amore. L'hai già mangiata quasi tutta? È buona. Ti piace tanto questa pizza? Manca ancora qualcosina però, eh? Veniamo sempre da Elena. Non ne vuoi più? Veniamo sempre da Elena. Eh? Veniamo sempre da Elena. Sì, amore, veniamo sempre da Elena, ok? Veniamo sempre domani. Domani non lo so, vediamo. Domani non lo so. Podassi. Ragazzi, questo risotto deve essere buonissimo. È buono, amore. Dai, buon appetito. Buon appetito. Lo stai mangiando anche tu? Lo so, furbina. Avvina. Hai ancora. Che buono. È buonissimo. Ani, anche il tiramisù? Ok, voglio assaggiare adesso. Ma sei viziatissima. Ma lo mangi tutto. Eh? Mamma. Ani, voglio assaggiare. Fallo assaggiare a Vanessa. Senti che buono, male. E' buono. E' ancora buono. Buono, bimbe. Cena finita. Guarda, mamma, posso fare il salto con te. Dai, fammi vedere. Mamma mia, che saltone. Ti faccio fare le olimpiadi. Salto in lungo. Ah. Anastasia. Wow. Ascoltatemi, bimbe, è molto tardi e dobbiamo andare in centro. Quindi andiamo alla macchina. Andiamo perché papà ci sta aspettando, dai. Ok, dai, vi siete messe la cintura, bimbe, che dobbiamo andare? Ma Vanessa? Ma dov'è Vanessa? Ani? Come bo? Ma come bo? Ma hai visto Vanessa? Eh, ma scusa. Ma Vanessa? Ma dove è Vanessa? Ma scusa, ma siamo uscite. Dove cacchio è Vanessa? C'è. Ah, non c'è Vanessa? No. Torno indietro. Ma vai a vedere dove è Vanessa. No, vabbè, io non ci posso credere. Ah, guarda, adesso appena la becco ce ne andiamo a casa. In centro non andiamo più. No, no, dai. Ma come dai? Io lo devo andare. Dove è venire? Non è qua l'inglese. Ma guardala, guardala. Ma guardala. Ma chi è che passa? Guarda che stava cercando. Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ma scusa, ma non ti sei accorta? Vieni qui, sali. Scusami, eh. Ma scusami. Fammi capire, ma dove sei andata? Dovevo andare in bagno. E dovevi andare in bagno? Non me lo dici che dovevi andare in bagno. Mi fai partire. Cioè, quindi tu fammi capire. Sei andata in bagno e non ti sei curata di dirmi, mamma, vado in bagno. Sapendo che noi stavamo... Mamma, mamma. Mamma non è vero, Vanessa. Perché se tu avessi detto, mamma, mamma, io ti avrei sentita. Comunque, è anche tu, Anastasia. Cioè, vedi che lei non c'è in macchina e non dici niente? Ma non l'ho vista, sono salita. Appunto, non l'hai vista. Il problema è quello, che siamo partiti senza di lei. Allora, facciamo una bella cosa. Da domani non si esce più, ok? Visto che siete disobbedienti... Punizione. Siete in punizione, bravo papà. Va bene, quindi il video finisce qua. Siamo cattivi. No, non siamo cattivi. Mi avete fatto... Mi hai fatto spaventare. Il video finisce qua e... Scrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E scrivete nei commenti se ho ragione io o se ho ragione Vanessa. Ho ragione Vanessa. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao.